ciao ragazzi ecco il nostro secondo video di dottoressa una domanda io vado subito a dar voce alle vostre domande la domanda di gian battista durante la settimana mangio verdura pesce legumi e la pasta solo la domenica e pane integrale faccio bene o male allora caro giambattista diciamo partiamo dal presupposto io parto presupposto che sia che lei sia una persona normale che non abbia patologie particolari perché ripeto ogni caso se ogni individuo è a sé a seconda proprio a seconda del proprio stile di vita ok e quindi in condizioni normali ovvio verdura e frutta si partiamo dal presupposto giornalmente si mangia verdura e frutta di stagione possibilmente e pesce benissimo che ricco di omega 3 e poi ha un alto valore biologico di proteine legumi certo anche bene e invece la pasta solo la domenica beh direi che possiamo anche metterla in altri giorni della settimana e ovviamente sto parlando di una persona normale che ha una vita che conduca una vita normale con attività fisica eccetera eccetera quindi la pasta e non la demonizziamo dobbiamo più che altro limitare i contimenti cioè non deve essere una pasta priva di diciamo così senza sapore ma è scondita ma a debba avere che sia che sia una pasta condita con le quantità di di olio giuste e con tutto il contimento suo però solo la domenica diciamo è un po troppo poco e il pane integrale certo perché cerchiamo di mangiare zuccheri non raffinati quindi la pasta il pane riso integrale nel corso quintico della settimana quindi spero di essere di aver risposto alle sue domande passiamo alla domanda invece di matteo e premetto che la domanda di matteo è stato fa è stata fatta quando ho postato sul mio profilo di facebook un le patologie legate all'obesità al sovrappeso e quindi matteo mi chiede le calorie dell'alcol fanno ingrassare come viene convertito dall'organismo e come viene metabolizzato allora parto di parto dicendo che ovviamente la le patologie dell'obesità sono varie ok e l'alcol non è un nutriente però diciamo associato agli altri e diciamo così agli altri ai nutrienti alla dieta di cui appunto ogni giorno abbiamo una dieta sana e bilanciata eccetera e l'apporto di calorie dell'alcol associata a questi agli alimenti ovviamente fanno se non sono equilibrate fanno ingrassare detto ciò l'alcol la caratteristica e le componenti principali dell'alcol e l'etanolo l'etanolo è una sostanza estranea al nostro organismo non essenziale e partiamo dal presupposto che le bevante e alcoliche devono essere hanno i suoi effetti dannosi devono essere moderati e devono essere assunte con cautela e moderazione e quindi la domanda le calorie dell'acqua fanno ingrassare sì certo associata al resto della delle degli alimenti fanno hanno il loro apporto calorico assolutissimamente sì e mi ricordo che diceva perché sono magri i forti bevitori i forti bevitori sono magri tendenzialmente perché tendono a sostituire l'alcol e il cibo con l'alcol quindi determinando una malnutrizione perdita di peso ma non è che l'acqua faccia dimagrire ok come viene convertito all'organismo e come viene metabolizzato allora l'alcol l'etanolo viene metabolizzato l'85 per lo più 85 per cento dal fegato entra quindi dalla diciamo così in bocca già in bocca viene assorbito e poi passa quindi è tratto gastrointestinale e a livello dello stomaco ci sono degli enzimi che tendono appunto cad me lo metabolizzano quindi prima che possa entrare poi nel sangue e negli altri liquidi e dell'organismo nell'organismo in generale mentre nel fegato ci sono gli enzimi che ormai c'è enzimi che non metabolizzano quando ormai è nell'organismo e ha avuto i suoi effetti collaterali ok i suoi effetti insomma ovviamente quantità moderate diciamo così non stiamo non hanno questi effetti dannosi e moderiamo sempre queste bevante diciamo così le bevante alcoliche poi dipende molto dalla composizione corporea dal sesso dalle dall'età eccetera eccetera quindi io sto parlando in maniera generale però le calorie delle dell'alco fanno ingrassare sì certo ok io con questo ho deciso di fare poche domande perché mi è stato detto che interessante video però un po troppo forse lunghe vi perdete e quindi cerchiamo di farli un po più corti ma è spesso e chiudo con le vitamine di positività vi ricordatevi ma mi mancavano allora ho scelto questo confida l'errore se hai commesso un errore non nasconderlo dichiaralo apertamente negare i propri errori significa ripeterli e non darsi la possibilità di essere migliori di ieri e con questo è tutto e come dico sempre ormai il mio motto caricatevi positivamente ciao ragazzi alla prossima